il naso d'argento era una lavandaia che era rimasta vedova con tre figliuole si ingegnavano tutte e quattro a lavar roba più che potevano ma pativano la fame lo stesso un giorno la figlia maggiore disse alla madre dovessi anche andare a servire il diavolo voglio andarmene via di casa non dire così figlia mia fece la madre non sai cosa ti può succedere non passarono molti giorni e a casa loro si presentò un signore vestito di nero tutto compito e col naso d'argento so che avete tre figlie disse alla madre lascereste che ne venisse una a mio servizio la madre l'avrebbe lasciata andare subito ma c'era quel naso d'argento che non le piaceva chiamò in disparte la figlia maggiore e le disse guarda che in questo mondo uomini col naso d'argento non ce ne sono sta attenta se vai con lui te ne potresti pentire la figlia che non vedeva l'ora di andarsene di casa partì lo stesso con quell'uomo fecero molta strada per boschi e montagne e a un certo punto lontano si vede un gran chiarore come di un incendio cosa c'è laggiù chiese la ragazza cominciando a sentire un po d'apprensione casa mia là andiamo disse il naso d'argento la ragazza proseguì e non sapeva ormai trattenere un tremito arrivarono a un gran palazzo e naso d'argento la portò a vedere tutte le stanze una più bella dell'altra ed ognuna le dava la chiave giunti alla porta dell'ultima stanza naso d'argento le diede la chiave ma le disse questa porta non la devi aprire per nessuna ragione se no sono guai di tutto il resto sei padrona ma di questa stanza no la ragazza pensò qui c'è qualcosa sotto e si ripromise ad aprire quella porta appena naso d'argento l'avesse lasciata sola la sera dormiva nella sua cameretta quando naso d'argento entrò furtivamente si avvicinò al suo letto e le pose tra i capelli una rosa era silenzioso come era venuto e se ne andò l'indomani mattina naso d'argento uscì per i suoi affari e la ragazza rimasta sola in casa con tutte le chiavi corse subito ad aprire la porta proibita appena chiuse la porta uscirono fuori fiamme e fumo e in mezzo al fuoco e al fumo c'era pieno d'anime dannate che bruciavano capì allora che naso d'argento era il diavolo e quella stanza era l'inferno diede un grido chiuse subito la porta scappò quanto più lontano poteva da quella stanza infernale ma una lingua di fuoco le aveva bruciacchiato la rosa che portava tra i capelli naso d'argento tornò a casa e vide la rosa strinata così mai obbedito disse la prese di peso ha perso la porta dell'inferno e la scagliò tra le fiamme il giorno dopo ritornò da quella donna vostra figlia si trova tanto bene da me ma il lavoro è molto e ha bisogno d'aiuto ci mandereste anche la seconda vostra figlia e così naso d'argento tornò con l'altra sorella anche a lei mostrò la casa diede tutte le chiavi e anche a lei disse che tutte le stanze poteva aprire tranne quell'ultima figuratevi disse la ragazza perché dovrei aprirla che me ne importa dei fatti vostri la sera quando la ragazza andò a letto naso d'argento si avvicinò al suo letto piano piano e le mise tra i capelli un garofano la mattina dopo appena naso d'argento fu uscito la prima cosa che fece la ragazza fu d'andare ad aprire la porta proibita fumo fiamme urla di dannati e in mezzo al fuoco riconobbe sua sorella sorella mia le gridò liberemi di questo inferno ma la ragazza si sentiva svenire chiuse la porta in fretta e scappò ma non sapeva dove nascondersi perché ormai era sicura che naso d'argento era il diavolo e lei era in mano sua senza scampo tornò naso d'argento e per prima cosa la guardò in testa vide il garofano appassito e senza dirle una parola la prese di peso la buttò anche lei all'inferno indomani vestito come al solito da gran signora si ripresentò a casa della lavandaia il lavoro a casa mia è tanto due ragazze non bastano mi dareste anche la terza e così se ne andò con la terza sorella che si chiamava lucia ed era la più furba di tutte anche lei mostrò la casa e fece le solite raccomandazioni e anche a lei mentre era addormentata mise un fiore tra i capelli un fior di gelsomino alla mattina quando lucia salzò andò subito a pettinarsi e guardandosi allo specchio vide il gelsomino guarda un po si disse naso d'argento mi ha messo un gelsomino che gentile pensiero ma lo metterò in fresco e lo mise in un bicchiere quando fu pettinata visto che era sola in casa pensò adesso andiamo un po a vedere quella porta misteriosa appena aperto eccole viene incontro una vampa di fuoco e vede tanta gente che bruciava in mezzo a tutti sua sorella la maggiore e poi sua sorella la seconda lucia lucia gridarono toglici di qui salvaci lucia per prima cosa rinchiuse la porta per bene poi pensò come poteva salvare le sorelle quando tornò al diavolo lucia si era rimessa tra i capelli il suo gelsomino e faceva finta di niente naso d'argento guardò il gelsomino è fresco disse certo perché non avrebbe dovuto essere fresco che si tengono in testa i fiori secchi e niente dicevo così per dire fesse naso d'argento tu mi sembri una brava ragazza se continuerai così andremo sempre d'accordo sì questo bene ma starai ancora meglio se non ci avesse un pensiero che pensiero quando sono partita da casa mia madre non stava tanto bene e ora sono senza sue notizie se non è che questo disse il diavolo ti faccio un passo io e così ti porto notizie grazie siete proprio buono se potete passarci domani io intanto preparo un sacco con un po di roba sporca così se mia madre sta bene gliela date da lavare non vi pesa e figurati disse il diavolo io posso portare qualsiasi peso appena il diavolo fu uscito lucia aperse la porta dell'inferno tirò fuori sua sorella maggiore e la chiuse in un sacco statene tranquilla carlotta le disse adesso il diavolo in persona ti riporterà a casa ma se senti che fa tanto di posare il sacco bisogna che tu dica ti vedo ti vedo quando venne naso d'argento lucia gli disse qui c'è il sacco della roba da lavare ma ce lo portate davvero fin da mia madre non ti fidi di me e c'è il diavolo sì che mi fido tanto più che ho questa virtù che posso vedere da lontano e se fate tanto di posare il sacco da qualche parte io lo vedo il diavolo disse ah sì guarda ma lui ma questa storia della virtù di vedere da lontano ci credeva poco si mise il sacco in spalla quanto pesa questa roba sporca fece sfido disse la ragazza quanti anni erano che non davate niente a lavare naso d'argento si mise in cammino ma arrivato a mezza strada si disse sarà però io voglio vedere se questa ragazza con la scusa di mandare la roba a lavare non mi vuota la casa e fece per posare il sacco ed aprirlo ti vedo ti vedo gridò subito la sorella da dentro il sacco per macco è vero vede da distante disse il naso d'argento e rimessosi il sacco in spalla andò di filato a casa della madre di lucia vostra figlia vi manda questa roba da lavare e vuol sapere come state appena rimasta sola la lavandaia perse il sacco e figuratevi il suo piacere a ritrovare la figlia maggiore dopo una settimana la lucia tornò a fare la malinconica con naso d'argento e a dirgli che voleva notizie della madre e lo mandò a casa sua con un altro sacco di roba sporca così naso d'argento si portò via la seconda sorella e non riuscì a guardare dentro il sacco perché sentì gridare ti vedo ti vedo la lavandaia che ormai sapeva che naso d'argento era il diavolo era piena di paura vedendolo tornare perché pensava che le avrebbe chiesto la roba lavata dell'altra volta ma naso d'argento posò il nuovo sacco e disse la roba lavata la verrò a prendere un altro giorno con questo sacco pesante mi sono rotto le ossa e voglio tornare a casa a scarico quando se ne fu andato la lavandaia tutta ansiosa perse il sacco e abbracciò la sua seconda figlia ma cominciò ad essere più in pena che mai per lucia che ora era sola in mano al diavolo cosa fece lucia di lì a poco si attaccò con quella storia delle notizie della madre il diavolo sarà ormai seccato di portare sacchi di roba sporca ma questa ragazza era così obbediente che lui se la teneva cara la sera prima lucia disse che aveva tanto mal di testa e andava a letto prima vi lascio il sacco preparato così domattina anche se non mi sento bene e non mi trovate alzata potete prenderlo da voi ora bisogna sapere che lucia sarà cucita a una bambola di strazzi grande quanto lei la mise a letto sepolta sotto le coperte si tagliò le trezze e le cucì in testa alla bambola così che sembrava lei addormentata e lei si chiuse nel sacco la mattina il diavolo vide la ragazza in letto sprofondata sotto le coperte e si mise in via col sacco in spalla stamattina è malata si disse non ci farà attenzione è la volta buona per vedere se è davvero solo roba sporca posò lesto il sacco e fece per aprirlo ti vedo ti vedo ridò lucia per bacco proprio la sua voce come fosse qui è una ragazza che è meglio non scherzarci tanto si rimise il sacco in spalla e lo portò alla lavandaia passerò a prendere tutto poi disse in fretta ora devo tornare a casa perché lucia è ammalata così la famiglia fu di nuovo riunita e siccome lucia sarà portata dietro anche tanti quattrini del diavolo potevano vivere felici e contente piantarono una croce davanti all'uscio così il diavolo non osò più avvicinarsi